Ciao ragazzi e benvenuti in questo quinto episodio di Mario Kart Tour Oggi faremo il trofeo Toad Cominciamo subito ragazzuoli Devi andare con Koopa come al nostro solito Perché mi sembra molto forte Si molto forte, molto agevolato dai Amici se questa serie mi sta piacendo Mi piace in questo periodo Non sto guardando molto i mi piace Però spero che voi state lasciando tanti mi piace Perché questa serie la sto registrando di continuo Credo che mi pare in fretta Dovresti provare i comandi della derapatta Ah ok anche qua hanno inserito la derapatta 2-1 via Andiamo Ok ragazzi sono primo Ok ragazzi Ok bene così Ora ragazzi questo circuito l'abbiamo già fatta Ok bene così 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 Bene così Allora ma ce la vinciamo facile Dopo No dai No dai Se non è possibile Ok ho vinto Stai E poi va a portare Se c'è il tempo per arrivare Se è fatto alle 4 ore Vorrei fare alle 4 ore Ah E tu Non lo sai ok bene così andiamo avanti con il buzzer tipo timido bene così bene andiamo con Todd nella prossima gara ok questa qua è vecchia questa è zitta ok questa pista è come se non me la ricorda si più ok bene così ma vai e gira buzzer bene così ok bene così signori ultimo giro che andiamo no beh signorini dai è così quello della quantità di mi piace C'è, mamma mia, questa serie che sta andando veramente alla grande, vedi? Bene così, e si vince anche in questa, mamma mia. Perfetto così, 4 magastelle per noi. Ok, adesso andiamo con Bowser, andiamo nella modalità 150 signori miei, perché io voglio complicarmi la vita. Ok. Ok, adesso andiamo. così lei è così ok No la madonna Dai Elevatevi Da le bale Ok, primo giro è andato, ci manca il secondo e abbiamo fatto Dai però Che non è possibile Ok Ok Ok, grande Sì sì A Fannapoli Signori miei E vince Vince signori Vince anche nella modalità 150 Mamma mia Ma stiamo scherzando signori Ma sono un mostro vivente Perché qua c'è proprio succo Qua c'è C'è tutto Ok Quattro magastelle ottenute Anche qua Perfetto Ah vabbè No vabbè lo confermo in un altro momento Ok andiamo Per l'ultima sfida di oggi Anche se Da Perfetto Un Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Il torneo è stato finito E niente ragazzi Noi ci vediamo in un prossimo episodio Dove faremo il prossimo torneo E niente Bella Ciao 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 Ciao